Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale Serie TV Italia. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella per essere sempre aggiornati su tutte le novità. Ciao amici di Serie TV Italia! Oggi vi porto una notizia fresca fresca direttamente dal mondo del gossip. Gianni Sperti, noto opinionista di uomini e donne, ha deciso di anticipare i giornali e ha annunciato, tramite una story su Instagram, di essersi innamorato. Sì, avete capito bene. Ma chi sarà la fortunata o il fortunato? Beh, Gianni ha deciso di mantenere il mistero e non ha rivelato nulla sulla sua nuova fiamma. Dopo la fine del suo matrimonio con Paola Barale, ci sono state molte chiacchiere sul suo conto, ma lui ha sempre preferito mantenere un profilo basso. Recentemente, in un'intervista a Verissimo, ha parlato del suo passato e della sua relazione con Paola, sottolineando come non abbiano più avuto contatti da vent'anni. Ma oggi, Gianni sembra essere in un momento di rinascita e felicità. Ha recentemente condiviso un post in cui parla di come la sua vita sia fatta di diversi capitoli e di come si senta rinnovato. Insomma, sembra che Gianni stia vivendo un periodo d'oro. E voi, cosa ne pensate di questa nuova avventura amorosa di Gianni Sperti? Se vi è piaciuto il video, lasciate un commento e non dimenticate di iscrivervi al canale Serie TV Italia per non perdervi i prossimi aggiornamenti sulle notizie più interessanti del mondo dello spettacolo e delle serie TV.